siamo su mx linux versione flux box che ho installato nell ssd esterno per avere diciamo una visione di un sistema operativo leggero perché possa girare un ssd con appunto esterno con la chiavetta usb quindi essendo penalizzato diciamo dal fatto che si trova esternamente al computer quindi può avere dei rallentamenti e ho messo questo mx linux anche per guardarlo e la persona flux box devo dire che è abbastanza graficamente abbastanza accattivante abbastanza bello non sembra sia un flux box perché se provate a installare flux box magari da terminale poi uscirà una schermata completamente grigia c'è uno sfondo grigio con un pannello semplicissimo con un menù che si esce con esce col tasto destro è una cosa stile windows 95 magari anche peggio però qua è stato forgiato in modo tale che sembra una sorta di plasmoide diciamo una sorta sotto sotto sviluppo un kd e come risorse diciamo consumo pochissimo inizialmente la ram utilizzata e 350 megabyte solamente 350 megabyte quindi praticamente chi non non riesce a utilizzare più magari l'ex di già pronto all'uso può utilizzare questo flux box che è un degno rete diciamo dell'ex di e posso stigli sostituirle reggiamente anche graficamente e a chi non piace l'ex iqt questo questo non ripiego abbastanza importante faccio vedere il pannello che c'è sotto oltre a vedere diciamo il conchi tipico di mx con l'orario in modo sovrapposto con l'ora e i minuti e con colorazione abbinate e possiamo vedere sotto un pannello un pannello che apparentemente sembra diciamo un pannello ripeto stile plasma ma non è un pannello di quello non è un pannello di quello importante blasonato ma è un pannello che si utilizza come ripiego su open box ed il tint 2 di solito si usa su open box ed è il tint 2 che graficamente non sembra proprio lui come vede ci sono anche delle bordure con effetto 3d e questo tint 2 fa egregiamente il suo lavoro nel tint 2 abbiamo abbiamo messo le conere sistema dove praticamente nel lato destro abbiamo lo spegnimento del sistema operativo con anche l'uscita di sessione sospensione e così via e poi abbiamo l'icona dell'orario dove c'è semplicemente l'ora e cliccando esce la data del 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 giorno del mese e dell'anno poi subito dopo a sinistra abbiamo l'icona per wifi o il cavetto ethernet per la connessione internet poi abbiamo il clip man dove praticamente sapete che questo serve per questo applet serve per poter camerare tutti i copia e incolla e quindi avere un elenco quello che avete fatto durante la giornata di copia e incolla quindi del del copia quindi se potete ritrovare in questo elenco il copia che avete fatto per esempio avete copiato questo casa da una video scrittura e poi vi ritrovate il copia del casa potete ricopiare quel quella scritta e utilizzarla per un altro video scrittura qualche altra cosa una ricerca su google magari su internet poi subito dopo abbiamo sempre a sinistra più a sinistra abbiamo l'icona che si vede questa icona che sembra una una saetta e non si capisce esattamente cosa sia ma cliccando esce fuori il synaptic quindi c'è solo i pacchetti che vi fanno fino a seconda Grazie. 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 Dove è una chiave da ferramenta, una chiave fissa, dove praticamente il settaggio del sistema operativo, dove abbiamo i vari settaggi, con praticamente e sarebbe il gestore delle impostazioni dove praticamente abbiamo tutto quello che riguarda diciamo le impostazioni un po' il pannello risistema le windows diciamo per farvi un esempio più semplice dove c'è praticamente si possono cambiare gli sfondi con il nitrogen in questa cosa c'è il nitrogen per cambiare gli sfondi quindi viene utilizzato questo programma che si utilizza per il windows manager quando non c'è un desktop environment come nel caso di fluxbox si può anche c'è il mix crea doc si può creare una doc insomma con l'mx tool poi c'è mx definiture regolazione del volume insomma c'è tante poi l'mx conchi per poter c'è il conchi appena cliccate c'è il conchi manager dove praticamente c'è un diciamo un'impostazione generica dove c'è poi anche il conchi manager potete anche scegliere i conchi già messi in elenco da parte di mx e potete cambiare quel conchi che avete inizialmente con quell'orario sovrapposto potete utilizzare altri tipi di conchi e va bene ci sono tante cose anche la gestione del tinte 2 quindi il tinte 2 manager dove potete praticamente editare il tinte 2 che è il pannello di cui ho parlato prima va bene poi abbiamo abbiamo qua cosa mi sono messo mi sono scritto poi c'è l'mx l'mx strumenti che si trovano in questa doc c'è una doc a sinistra dove ci sono cinque icone mx conchi scusate mx strumenti dove praticamente è un altro sorta di pannello di controllo dove c'è praticamente dove si può ci sono dei tool dove si possono creare delle live usb si possono fare degli snapshot scusate degli snapshot mi manca la saliva degli snapshot di sistema quindi creare delle immagini nel sistema per recuperare eventualmente il sistema operativo ha dei problemi riscu e scan c root riscu e scan gestore disco che sarebbe dovrebbe essere gipard mx opzione di boot riparo boot configurazione pulizia quindi fa mx pulizia fa una sorta auto remove dove per esempio si tolgono i pacchetti che non si utilizzano più sono obsolete quindi mx pulizie configurazione gestore dei servizi e questo sarebbe mx strumento che si trova nella prima icona in basso della doc a sinistra che pesce questa doc a sinistra poi c'è un'icona dove c'è una sorta a becetario dove dice tutte le funzioni mx linux c'è un pdf dove potete vedere e cercare direttamente fuori linea quello che vi serve di sapere per le funzioni che non sapete mx linux quindi cercare delle funzioni ben specificate dopo di che c'è questa icona c'è questa icona dove parliamo di mx installa installa software se non erro c'è mx installa dove praticamente potete l'installazione ci sono le sezioni e le sottosezioni quindi ambiente desktop audio barra doc browser come ho detto prima insomma c'è praticamente l'installazione dei programmi video scritture e e così via che vi possono servire per quanto riguarda che ho dimenticato qua niente poi c'è l'icona del videos insomma così per quanto riguarda i menu ci sono dei menu multipli nel senso ci sono tanti menu per aprire i programmi nel pannello tint2 abbiamo l'icona di menu che non avevo detto prima dove praticamente esce l'app finder in effetti in realtà è l'app finder che viene utilizzato come menu e graficamente è stato forgiato in modo tale da essere un menu vero e proprio dove ci sono quando si apre ci sono tutti i programmi che sono installati e c'è la ricerca e poi ci sono delle icone dove potete cliccare invece di avere i programmi messi in fila avete i settori quindi multimedia office e così via e poi c'è un'altra icona un'iconcina dove c'è messo sempre info di sistema e poi qualche altra cosa che non mi ricordo forse il synaptic stesso in questo momento non mi viene in mente perchè sto guardando delle foto che ho scattato non ho il computer davanti come spesso e volentieri mi capita e niente vi faccio vedere ora il tuner di cui vi ho parlato prima il file manager che è la persona 418 metri il tuner è un file manager veramente completo ovviamente ho usato un windows 11 di un altro computer e mi sono chiesto come mai l'utenza che usa windows 11 utilizza windows 11 sapendo che il file manager windows 11 fa veramente pena cioè già il tuner è molto superiore a quello che vedo su windows 11 come fa il manager ho trovato veramente cioè ho trovato un altro mondo perchè utilizzo solamente linux quando vado a vedere windows rimango stupefatto dalla retratezza che c'è su questo sistema operativo e dico come fanno ad utilizzare una cosa del genere e ritorno subito su linux poi c'è il rofi menu con il tasto super cliccando con il tasto super c'è anche il rofi menu oltre all'app finder abbiamo il rofi menu quindi abbiamo un altro un secondo menu rofi menu dove c'è sapete come ricerca rapida fatto molto bene graficamente e trovate tutti i programmi che volete e aprite tutti i programmi che volete dopo vi faccio vedere lmx benvenuto il benvenuto di mx dove c'è scritto che 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 versione del sistema operativo è cioè delle informazioni versione di mx mx 23.2 come ho detto all'inizio questo è il benvenuto che vi da e quindi rimane anche sempre questo benvenuto per sapere le info di sistema versione di Debian la base Debian è il 12.5 quindi è una versione abbastanza aggiornata sapete Debian come tutti gli altri sistemi operativi inizia con versione 12 poi versione 12.1 12.2 perché ci sono degli aggiornamenti negli anni e siamo aggiunti alla 12.5 vi da anche supporto che che fino a giugno 2028 quindi siamo nel 2024 altri quattro anni di supporto da parte di Debian come base neanche remix in questo caso e va bene chiudiamo il benvenuto andiamo a vedere qualche altra cosa forse è finito le slide le ho finite ritorno indietro sì mi sembra che ho finito le slide sì le ho finite le slide le informazioni che avevo allora praticamente io sto utilizzando appunto nel disco esterno anche se forse temporaneamente questo è a me piace tanto questo è mix linux versione fuxbox con ambiente fuxbox sapete che mix c'è xfc e poi che ho ottenuto l'utilizzo che avete visto in un video e poi cosa c'è remix dunque c'è kd xfc poi c'è proprio punto fuxbox sono tre e avete visto che ci sono ah oltre ai menu che vi ho detto fate tasto destro sulla scrivania su qualsiasi parte dello schermo tasto destro e avete un altro menu che è quello proprio di fuxbox quindi avete praticamente tre menu per aprire il programma mx è famosa per i suoi tool per l'agevolazione all'utente ad utilizzare il meno possibile il terminale e ripeto per computer obsolete anche di 15 anni fa potete utilizzare fuxbox questo mx 350 mega riutilizzo della ram iniziale e avendo un disco esterno come sto facendo io potete utilizzarlo tranquillamente come se fosse un disco interno quel disco lo portate in tasca e se viaggiate potete utilizzare il vostro mx linux nel disco esterno in qualsiasi computer sapete che linux si adatta a tutti gli hardware che ci sono nei vari computer che c'ha gli open GL come come driver e si adattano un po' a tutto poi qua c'ho delle slide delle fotografie che non c'entrano niente c'è una ricetta medica se volete vi parlo anche di quella ma mi sembra che sia troppo fin troppo per un canale che parla di altre cose di linux va bene ho fatto vedere questo mx linux vedete cosa ne pensate se vi piace se non vi piace io ho trovato più pregi che difetti anzi difetti difetti forse c'è vabbè una cosa risolvibile hanno dimenticato di mettere l'icona del volume nel pannello tinte 2 non lo so perché ma avete la possibilità di scegliere cioè inserire l'icona anche nel tinte 2 del volume hanno avuto questa dimenticanza ma non c'è niente da dire è perfetto c'è un c'è mx chi sviluppa mx di questi ragazzi sono veramente eccezionali veramente un un restyling del debian come base veramente di grande livello di grande livello vabbè chiudo qua questo video avendo guardato le slide poi andate a fare il filmato nel sistema vero e proprio Perché il computer Lo vado ad editare dopo Il sistema operativo Chiuso qua questo video Ho un prossimo filmato E che io abbia il tempo necessario Per fare tutti i filmati Che vorrei fare Ma in certi casi non ci riesco Ciao ciao a tutti E a un prossimo video Ciao da Salvatore Ciao